4 territori del gusto, 20 cuochi, 22 produttori di vino e olio extravergine, 100 turni di visita e laboratorio, oltre 1500 partecipanti. Sono questi i numeri della seconda edizione di Cucine Aperte, l'evento organizzato da Tirso Media lo scorso weekend per il consorzio La Puglia e Servita. Una festa della gastronomia d'eccellenza in cui i viaggiatori gourmet appassionati e semplici curiosi sono entrati in contatto diretto con gli alti standard qualitativi dei soci del consorzio. Anche per questa edizione ogni struttura ha dedicato a un prodotto nel piatto la propria preparazione di benvenuto, permettendo ai visitatori di assaggiare le diverse tipicità di ogni territorio. Un omaggio al ricco patrimonio di eccellenze no gastronomiche di Puglia, arricchito dalle degustazioni di vino e olio extravergine, a cura dei produttori del Movimento Turismo del Vino Puglia e di Buonaterra, Movimento Turismo dell'Olio Puglia. Ci siamo fatti in quattro, sabato e domenica, pranzo e cena. Tante le richieste, tanti gli appassionati e tanto entusiasmo anche da parte nostra nel diffondere la cultura della gastronomia, della preparazione dei cibi. Come bolle in pentola e non cosa bolle in pentola, quindi non l'effetto finale o non soltanto l'effetto finale, il piatto pronto, ma come si arriva alla preparazione del piatto, quali tecniche si usano, quali strumenti si usano, quanta passione e quanto amore ci mettiamo nella preparazione dei piatti. Il prodotto che abbiamo scelto è la barbabietola, abbiamo deciso di fare questo piatto che si chiama Deep Purple, un po' per onorare la musica rock e poi anche per evidenziare il colore porpora profondo della barbabietola. È un piatto fatto con dei crauti di cavolo rosso e finocchietto selvatico, un'emulsione di barbabietola cotta sotto la cenere e poi delle fettine di barbabietola cruda che è stata messa a macerare con un aceto giapponese leggermente affumicato. Quindi un piatto fresco e probiotico, quindi anche salutare che è un po' la base della filosofia della nostra cucina. È una bellissima manifestazione perché non sempre si ha la possibilità di capire i segreti della cucina e anche di entrare nelle cuscine di chi ci ospita. C'è un lavoro di passione, c'è un lavoro di ricerca, c'è un lavoro di preparazione, c'è un lavoro di precisione nelle preparazioni, conservazioni, c'è tutto un lavoro importante dietro.